La qualificazione al secondo turno di Coppa, neanche tanto nascosto, lo ha sottolineato anche l'Omonaco. È una questione di prestigio e soprattutto i successi chiamano successi e creano mentalità. Ecco perché per la partita di domenica al Massimino contro l'Agragas nulla sarà lasciato al caso, perché Rigoli guarda quella partita come l'ultimo test importante sotto tanti aspetti, sia fisici, di condizione, ma anche mentali, per capire a una settimana dall'inizio del campionato di che passo è fatto questo Catania. Un Catania che parte già con un'identità precisa, rappresentata da quel 4-3-3 che ormai è diventato quasi un marchio di fabbrica e che può contare su un centrocampo di qualità ed esperienza, grazie a Scoppa, Biaggianti e De Cecco, ai quali, oltre Bucolo, che domani sarà presentato ufficialmente insieme a Piscinelle Scoppa, è stata aggiunta una pedina come forno che a discapito della giovane età ha anche 60 presenze in Lega Pro. Ma oggi dovrebbe essere anche il giorno di Alessandro Rosina alla Salernitana. La definizione della cessione dell'attaccante insieme all'addio di Bergamelli sbloccherebbe il mercato del Catania per arrivare almeno ad altri due giocatori. Ed è arrivata questa notizia perché il calcio Catania fa sapere la risoluzione consensuale del legame contrattuale con il calciatore Alessandro Rosina.